Ma Cristina Davina c'era una sorella? Oh, io manco lo sapevo. Buongiorno a tutti, bentrovati in questo nuovo video, io sono Max, parliamo appunto di Cristina Davina e sua sorella Clarissa, che è sempre Davina. Quasi dieci anni di differenza e un rapporto davvero molto profondo. Si sono così, presentate insieme, di recente lo hanno fatto in tv, al programma Verissimo, quello famoso di Silvia Toffanin, e sebbene una non la vediamo mai e l'altra la vediamo anche troppo, beh, sua sorella Clarissa praticamente è una goccia d'acqua a Cristina Davina. La somianza è stata notata davvero da tutti quando le due sorelle si sono sedute nel salottino televisivo della trasmissione condotta da Silvia, sì, per potersi raccontare, per poter dire a tutti noi cose che magari non sappiamo. E nel corso della trasmissione Cristina Davina, che tra l'altro festeggia 40 anni di carriera, ma tanti tanti auguri, tanti auguri a te, ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Ma torniamo un attimino alle due sorelle. Clarissa condivide davvero un sacco con la sorella maggiore, a partire per la passione per la musica. Infatti, nonostante ormai non canti più, la sorella più giovane di Cristina si occupa comunque di musica. Praticamente gli sta sempre dietro, nel senso che gli fa da spalla. Da spalla, sì, alla sorella. Ebbene sì, perché in pratica Cristina Davina, che è nata a Bologna nel 1974, è, lei l'addetto stampa della sorella. Ebbene sì, un connubio che non è solo di sorellanza, ma anche artistico dunque. E questo fatto qua, loro due ci tengono un sacco a precisarlo, ma ci sono un sacco di dettagli in comune tra le due sorelle. E un altro particolare, che sicuramente le accomuna, è quello di aver sempre cercato di mantenere la riservatezza sulla loro vita privata. Quindi, automaticamente, noi de' loro. Non sappiamo quasi niente. In realtà, in passato, Clarissa, in una delle pochissime interviste rilasciate, ha spiegato che quando era praticamente piccolina, una ragazzina, si era invaghita di Massimo Varini, chitarrista molto apprezzato, che a 19 anni aveva iniziato la sua carriera facendo l'attore, nella serie Cri Cri, dove praticamente Cristina Davina recitava al fianco di Marco Bellavia. Oh, Marco Bellavia? Ne abbiamo parlato un sacco, lo sappiamo chi è, no? Ebbene, un altro dettaglio che sicuramente non sfugge ai fan più attenti, quelli più accaniti di Cristina Davina, e di conseguenza anche di sua sorella, riguarda gli esordi comuni di tutte e due, di tutte e due le sorelle. Infatti, tutti sanno che la nota cantante di Brani per Bambini ha esordito al famosissimo Zecchino d'Oro, con il waltzer del Moscerino nel 1968. Ma non tutti sanno che anche Clarissa ha iniziato da lì qualche anno dopo, come corista, e poi nel 1978, quindi ben dieci anni dopo, in gara con Illarca Navigava. Oh, potete cercare tutte queste cose nel web, se volete. Comunque, questo è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto, se volete lasciate il vostro marchio qui sotto, noi ci vedremo e sentiremo alla prossima.